Ci sono tanti modi per definire il mestiere di giornalista, alcuni molto lusinghieri, alcuni cattivi ma spiritosi, altri soltanto ingiusti. La battuta più severa è forse quella attribuita a Longanesi. Il giornalista è colui che pretende di spiegare agli altri ciò che neanche lui ha capito. Noi con il talk show più in là più in là tenteremo di capire quello che poi diremo ai nostri telespettatori. Grazie.